Amici di Santina, a tutti un saluto da Ciacchia Palma, questo carcere di grande difficoltà, un carcere duro, nel quale siamo arrivati proprio oggi, il 21 giugno 2016, per celebrare il Giubileo della Misericordia. Sono felice anche di celebrare qui il trentesimo anniversario della mia ordinazione sacerdotale. A tutti voi da 5100 metri, un grande saluto, ciao a tutti, Don Gigi.